ciao a tutti oggi sono qui per un video creazioni e alla fine del video vi dirò anche una cosa che è una mezza idea che ho avuto e che insomma prenderà forma lentamente ma nel canale nei prossimi giorni per cominciare vi faccio vedere alcune delle cose che ho fatto nell'ultimo periodo e quelle che vi mostrerò sono cose alcune un po più datate tipo questi che non vi ho mai fatto vedere che però insomma sono sono i sanni il tutorial ve lo metterò qua sotto nell'info box assieme a tutti gli altri tutorial i nomi purtroppo mi dispiace ma non me ne ricordo e di quasi tutti gli orecchini e quindi dovrò chiedervi per favore di riguardare sotto ve li metterò nell'ordine comunque questi sono i sanni questi sono miei personali ne ho fatto un altro paio in colore argento che ho già regalato c'è il color bronzo anzi scusate che ho già regalato sono veramente bellissimi questo progetto è fantastico questi li ho fatti con rivoli in resina e le perle sono le opac pensi della miyuki che secondo me sono fantastiche a me piacciono moltissimo queste sono duracote praticamente opac pensi sono stupende le ho prese in altri colori e adesso sto pensando di prenderle in altri colori ancora le aobi perline ho visto gli altri siti non mi pare che tengano questo tipo di duracote opache spero che le prendono fra poco anche altri siti perché insomma ogni ordine che faccio probabilmente ne metterò dentro un pacchettino perché le amo veramente e questo era il primo secondo è un modello di sidonia un po rivisitato e secondo me è venuto piuttosto carino aspettate un po di zoomino perché sono piccoli ecco sono piccoli e carini tutto quanto la lavorazione è in row praticamente per l'incassonatura ed è una lavorazione che a me piace molto e per questo ho deciso di provare a fare questi orecchini sidonia usava ibikono al passo delle perle devo dire che probabilmente con ibikono l'effetto è molto diverso a me piace poco la parte centrale nel senso che secondo me è un po troppo chiusa l'incassonatura però devo dire che alla fine hanno veramente loro perché è un bellissimo modello elegante piccolino io sono messo questa monachella per fare per fare per dare un po di movimento in più perché secondo me se lo meritavano diciamo avevo pensato di fare un perno superiore però secondo me avrebbero perso un po di armonia questi sono piccolini e carini quindi insomma è al meglio questa cosa facciamo vedere gli altri orecchini questi qui se non sbaglio si chiamano girandola però non ricordo di chi sono e non ricordo neanche se è il nome giusto comunque vi metterò il nome del tutorial qui sotto e mi piacciono veramente un sacco tanto che ne ho fatti anche in altri colori sempre con le perline opache vi faccio vedere tipo questo che è in fase di lavorazione qua sotto c'è questa parte che è terrificante che doveva essere il gancetto e che eliminerò perché non mi accomento neanche un po quindi adesso qui hanno ancora il filo li sistemo comunque insomma sono molto carini secondo me come modello e sicuramente ne farò degli altri perché penso che nel giro di un'ora insomma vengano fuori anche anche due paia di orecchini poi ho fatto questi di questi questi sono miei anche questi e di questi qui ho seguito tutorial su bid work la rivista non ricordo il nome delle creatrici ricordo soltanto che erano due con lo stesso cognome che sono un po tedesco però non so bene chi fossero sono un modello molto carino qui non avevano le perline io le ho aggiunte perché a me piacciono veramente un sacco le decorazioni così con le 15 zero perché non mi piace vedere i buchi delle super duo tutto qui il discorso il rivoli centrale è in resina qui mi sono anche rotta uno però siccome sono miei ho deciso di tenerli così lo stesso tanto non si nota e sono piuttosto carini insomma poi mi piacciono tantissimo le perle opache si possono usare praticamente solo negli orecchini perché sono un pochino più delicate anche nei ciondoli da insomma bastano metterli nei braccialetti però sono sono molto carini mi piace un sacco il modello sicuramente ne farò degli altri molto presto ora passiamo ai ciondoli inizio con questo che ho fatto un sacco di tempo fa ma che non mi convinceva fino alla fine per la parte della chiusura qui alla fine questo è un modello della lippert e l'ho preso da bidet fantasy che se non sbaglio il suo primo libro io ce l'ho da un paio di anni ormai e finalmente l'ho usato per fare questa cosa qui ho usato il fire line all'interno come vedete è tutto lavorato in crow e però sempre sempre qui c'è la retina un po della net che tiene su questa rete tiene su le perline e sotto c'è la lavorazione in row ed è veramente bello cioè a me piace un sacco puoi lavorare in roma piazza mi rilassa un sacchissimo e per fare questo qui all'epoca avevo usato quasi tutti i miei mezzi cristalli per vedete ho fatto in ora e rosa perché non mi bastavano quindi ho scelto di usare due colori al posto di uno e poi c'è del verde qui e sotto non si vede però ci sono anche delle mezzi cristalli in verde da qualche parte ma vi assicuro che l'effetto di insieme è veramente molto bello mi piace tantissimo questo ciondolo e ne farò degli altri sempre che io riesca a trovare un modo per chiuderli un po meglio perché la lippert nel suo schema aveva fatto passare una catena nella ciambellina però a me piace pochino credo che farò così qui ho fatto passare un cavetto d'acciaio perché volevo che tenesse bene con forza perché è pesante questo ciondolo lo vedete anche voi non è piccolino ed è bello grosso anche però è anche la sua bellezza devo dire che messo addosso con la collanina così è bello da vedere però un po come esagerato non piacerebbe trovare un altro sistema magari se avete idee potete scriver male per favore perché non so come fare poi vi faccio vedere queste altre due cose niente di questo dei miei tutorial non so se avete notato va bene è stato un periodo di scarsa voglia di fare robe nuove per me quindi adesso mi sono buttato un po' sui tutorial altrui ma presto ricomincerò a creare non so già ricominciato però vi farò vedere in un prossimo video questi sono dei ciondoli a tutto perle e sono veramente carini allora questo qui è fatto con le perle in resina avevano il foro largo e quindi ho usato delle beads qui che tra l'altro mi piacciono veramente molto perché secondo me la cosa che la cosa che a me piace meno di questo ciondolo è la parte esterna che sembra un pochino il bicolo sembra un pochino uscire e quindi ho cercato di ovviare a questo anche perché con le perle con il foro largo le 15 zero probabilmente sarebbero entrate dentro dentro la perla però è molto leggero veramente molto leggero perché anche il rivoli centrale in resina e avevo queste perle che sono molto belle tra l'altro e fino adesso non si sono spellate quindi mi auguro che continuino così queste invece sono perle in vetro e ho avviato sempre a questa cosa che dicevo anche perché io non ho usato il non ho usato i bicono ma i cipollotti ho avviato facendo un giro di delica esterno in modo da tenere la struttura diciamo più piena e mi piace molto come soluzione anche il retro come vedete è molto carino cioè mi piace veramente moltissimo qui l'ho incastonato più a modo mio devo dire rispetto al tutorial perché il rivoli a resina un po più finetto anche questo era un po più finetto quindi si vede che sta un pochino larga l'incastonatura però in realtà non esce sta molto ferma da bella comunque comunque sono per questo ho seguito di più il tutorial ne avevo fatto un altro io penso più di un anno fa di questi ciondoli ma non ce l'ho più era sul verde comunque insomma questi sono i due ne farà sicuramente degli altri perché è un modo molto bello secondo me di usare le perle da 8 mm mi piacciono tantissimo da tutte le perle poi vi faccio vedere un ciondolino mio questo allora questo non ve l'avevo mai mostrato qui adesso al posto di questo anellino metterò un fermazzonolo che finalmente ho comprato questo è stato penso il mio primo o secondo modello inventato tra virgolette c'è fatto senza seguire nessun tutorial mi piaceva moltissimo e ne ho portato uno in colori più palescenti più estivi per tutta l'estate scorsa e questo qui invece è un altro non so neanche io se farvi il tutorial perché sinceramente a basso è carino fa il suo effetto però non mi comincia al cento per cento quindi adesso vedrò un po che cosa fare se vi interessa potete scriverlo qua sotto comunque io sarò ben felice di farvi il tutorial perché ne ho parecchi in lista però questo lo farei con piacere perché per me è un progettino semplice però abbastanza importante a livello proprio affettivo mio e quindi insomma e poi a questi che sono i ciondoli emma che sapete io ho molta fantasia e quindi avendo usato l'emma abit al centro ho deciso di chiamarli emma evviva proprio va bene non lo so a me piacciono veramente un sacco questo è il primo che ho fatto era un po il prototipo questo è il retro vedete queste bellissime perle rose mi piacciono tantissimo sono perle cieche e questo appunto è nei colori rosa borgogna un pochino e c'è questo bianco perla e questo bronzo e le perline sono della miuchi ed è veramente bello cioè come piace tantissimo l'effetto che fa dal vivo l'effetto che fa il collo sono spettacolari veramente non piace molto dipenderà anche dagli svaroschi perché anche qui c'è uno svaroschi si vede questo nei colori argento e blu e con questo tipo di lavorazione di decorazione ancora più ampio diciamo mi piace ancora di più e questo sarà un regalo e quindi insomma io spero tanto che piaccia la diretta interessata ora sto tenendo il filo perché sono un po indecisa avevo pensato di fare un'altra decorazione ma penso di aver abbandonato l'idea devo soltanto decidermi il filo in fondo questo è il retro di questo come vedete a me piace tantissimo io so che sono di parte perché il progetto è mio però mi piace veramente tanto cioè spero di vederne degli altri in futuro tra l'altro secondo me al posto delle emma potreste usare anche altri perline l'effetto sarebbe leggermente diverso non avendo la parte superiore magari usando delle bricks o qualcosa del genere però secondo me non si perde così tanto e quindi insomma io tendenzialmente spererei cioè proverò in futuro a farne con le bricks e poi saprò dire come viene magari viene bello e può essere una valida alternativa perché le emma non le hanno tutti presto arriveranno un paio di orecchini abbinati e spero di farveli veramente presto poi facciamo l'ultimo l'ultimo è questo che in realtà è ancora work in progress che di questo ha seguito un tutorial di un sito che non mi ricordo nemmeno il canale questa parte davanti che vedete è la stessa del tutorial dietro invece ho dovuto stringere perché è molto molliccio come modello ovviamente tutte queste perle di vetro è normale che sia un po pesantino è più duro cioè meno duro rispetto a quello che dovrebbe essere secondo me meno resistente più flessibile insomma e quindi ho fatto queste decorazioni sul retro per cercare di tenerlo un po più fisso e già così devo dire che va bene perché è morbido però sta dritto non so se mi spiego comunque sono ci sono ancora i fili perché non sono ancora totalmente soddisfatta e pensavo di fare delle ulteriori decorazioni sui lati e questo pensavo di abbinarlo ai miei orecchini che ho fatto con le perle da 8 mm che si chiamano sales sales si scrive di cui ho fatto il tutorial un po di tempo fa questi eccoli sì qua questi qua sono i miei questi eccoli qua questo per il mio insomma pensavo di abbinarli a questo perché secondo me al posto dei dei cipollotti qui metterei il bicono e al posto dei cipollotti qui metterei le perline insomma usando le stesse gli stessi come si chiamano gli stessi pezzi potrei fare un paio di orecchini abbinati secondo me verrebbero molto bene e niente quindi io ho finito vi mostrerei anche altre cose ma rimanderò un prossimo video creazioni con le cose dai miei tutorial fondamentalmente perché qui c'erano soltanto questi tre però insomma io spero che il video sia stato di vostro interesse più o meno cioè io spero che il video sia stato almeno un po di vostro interesse e adesso veniamo al discorso che volevo farvi appunto volevo dire che ormai siete in novecento e io stavo pensando di fare di farvi un regalo quindi prossimamente e con prossimamente intendo nella prossima settimana quando riuscirò ad avere un po di tempo organizzarmi penso che vi farò una specie di giveaway regalo qualcosa del genere quindi tenete d'occhio il canale perché molto presto succederà già pensavo di fare due diversi pacchettini uno per le creatrici e uno invece per chi non crea ma guarda e basta insomma uno per chi crea uno per chi apprezza diciamo ecco e niente quindi direi che così ho finito io spero presto appunto di farmi risentire con queste novità spero che siano apprezzate adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao